Oggi nei nostri studi abbiamo il piacere di ospitare Paolo Dell'Erba, imprenditore della Pietra di Apricena, candidato alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre con la lista La Puglia domani. Perché questa candidatura a cinque anni dall'esperienza passata che Dell'Erba fece con la lista Schittulli? È una candidatura figlia proprio di quella candidatura di cinque anni fa, dal risultato di cinque anni fa che fu un buon risultato, si è costruito un percorso che pian piano insieme a tutta l'amministrazione ci sta portando a fare questa splendida campagna elettorale che ormai è al termine e credo di raggiungere un ottimo risultato alla fine di essa. Da persona a persona con la politica dei fatti, è questo lo slogan che è andato anche oltre le semplici parole in questa breve ma intensa campagna elettorale. Che significato assume? Da persona a persona il modo di fare nella politica, soprattutto in Paese, quello dell'ascolto, ma anche il modo di aver condotto questa campagna elettorale incontrando persone in tutti i comuni della provincia di Foggia. La politica dei fatti è il risultato del lavoro realizzato e sviluppato ad Apricene come assessore ai lavori pubblici. 50 milioni di euro di opere in cinque anni per una cittadina come Apricene non è roba da poco. Lei è uno dei pochi candidati che in questa campagna elettorale ha riempito le piazze. Qual è il segreto di tutto ciò? Evidentemente piaccio alla gente, sono empatico. Diciamo le cose che si possono fare, non raccontiamo chiacchiere. La gente ormai ha imparato a conoscerci. Poi Apricena è la mia città, è la città a cui voglio bene e gli apricenesi mi vogliono tanto bene. Il loro calore mi spingerà verso quest'ottimo risultato per lunedì sera. Dell'Erba, qual è il suo modello di sviluppo per la Capitanata? Il modello di sviluppo per la Capitanata è un modello innanzitutto dove dobbiamo partire dal basso perché Emiliano ci sta lasciando macerie. Dobbiamo partire dalle infrastrutture, rivedere il discorso sanitario e riprenderci i fondi persi nell'agricoltura. Questi tre temi vanno affrontati subito e nella maniera migliore. Nella fattispecie quando parla di infrastrutture a cosa pensa? Penso che in queste ultime ore hanno inaugurato la pista dell'aeroporto. Dobbiamo innanzitutto se supererà il collaudo dobbiamo fare in maniera che gli aerei partino, decollino, atterrino di tutte le dimensioni e che quindi ci sia un progetto aeroportuale. Abbiamo la superstrada del Gargano che si parla di allungamento ma io che la percorro spessissimo va innanzitutto messo in sicurezza, quella già esistente. Abbiamo la statale 16 da Chieuti a Foggia che è una mulattiera. Abbiamo ancora un binario da Chieuti a Ripalta. Ci sono tante di quelle situazioni che vanno subito prese di petto e risolte perché la gente è stanga. Sono 20 anni che di queste opere si parla, si parla, si parla e non si è mai fatto niente. Idee, progetti, propositi sull'agricoltura di Capitanata. Progetti sull'agricoltura ho detto prima, dobbiamo innanzitutto recuperare quei fondi che sono stati bloccati del PSR perché l'agricoltura è l'attività principale della Capitanata, sono fiumi di soldi che servono soprattutto allo sviluppo della nostra economia locale. Quando girano i soldi europei, le economie stanno sicuramente meglio per gli abitanti, si creano posti di lavoro e questo è importante, è quello che vogliamo. Paolo Dell'Erba, imprenditore ma anche grande appassionato di sport, vicino alla cestistica Sansevero, vicino al Sansevero Calcio, come nasce questa passione verso il basket e il calcio? La passione per lo sport è una cosa vecchia, da quando ero ragazzo che l'ho praticato mi è stata una passione di sport. Poi grazie alle mie possibilità non mi sono mai tirato indietro per contribuire al sociale perché lo sport dalle nostre parti non è altro che che fare del sociale. Adesso sto seguendo molto da vicino la cestistica perché da pochi mesi sono socio, tra poco inizierà il campionato di Serie A e faccio tanti auguri alla cestistica Sansevero per il prossimo campionato. Mancano poche ore alla conclusione di questa campagna elettorale, che campagna elettorale è stata per lei? È stata una campagna elettorale molto dura, molto dura perché l'abbiamo fatta in piena estate, affrontando le misure anti-Covid. Arriviamo stremati ma alla fine se vinceremo e siccome vinceremo la stanchezza non la sentiremo più. Anche a lei la possibilità di rivolgere l'appello ai suoi elettori? Il 20 e il 21 settembre andiamo tutti a votare per una Puglia migliore con fitto presidente mettete una croce sulla Puglia domani e scrivete Paolo Dell'Erba. Grazie Dell'Erba, auguri! Grazie a te!